Sono felicissima, anche perché il risultato si vede. Posso sorridere a tutti, che mi piace tantissimo sorridere e quindi adesso lo posso fare con tranquillità. Sono Lidia Finamore, vengo da Torino. Sono venuta a terminare i lavori intrapresi sei mesi fa. Ho fatto praticamente otto impianti e poi ho fatto la ricopertura dei denti anteriori. Ho sempre avuto questi denti che si sgretolavano molto, problemi alle radici. Qui ho fatto veramente un lavoro molto lungo e accurato, fino a questo risultato. Ho sorriso praticamente per due giorni di seguito, dopo che le ho messi. Giustamente il parlare, il poter guardarsi allo specchio anche, no? Ti ritrovi ad avere vent'anni di meno, perché poi l'impressione sul viso fa tantissimo. Però la cosa che mi ha stupito tanto è stato il rivedere il sorriso che avevo quando ero molto più giovane. Ho trovato una tecnologia veramente all'avanguardia e poi comunque anche in albergo, l'accoglienza, il soggiorno è stato molto piacevole. E poi dopo tutto procede sempre con molta attenzione. Non siamo mai lasciati completamente solo, c'è sempre qualcuno a cui rivolgersi se ne abbiamo la necessità sia di giorno che di notte. C'è sempre qualcuno che risponde al telefono per qualsiasi necessità che si può avere durante e dopo un intervento, se avuto. Io sinceramente non ho provato dolore nell'inserimento dei vari impianti, né successivamente poi nella riapertura, posizionamento dei denti, del capsule e tutto. Sono stata bene sia durante che il posto operatorio. Il problema era sicuramente di non poter avere lo stesso lavoro protesico e anche di estetica in Italia perché i prezzi sono costosissimi. Anche la scelta dei materiali ti propongono sempre della porcellana o della ceramica, invece l'effetto con lo zirconio mi sembra molto più bello. Quando sono arrivata la prima volta pensavo di trovare una città un pochino più piccolina, meno all'avanguardia. Invece mi sono restata piacevolmente stupita. È una città che cresce molto velocemente. La gente poi è molto ospitale, simpatica e si mangia benissimo.